Eccoci, dopo questa inizia l'involuzione così, dove siamo, dove stiamo facendo pesce, siamo partiti a fare un quartiere, siamo partiti alle quattro e mezza, cinque con tre, quindi l'acqua all'altro grande, e insomma non dobbiamo venire molto male, poi l'acqua incerto, effettivamente c'è ghiaccio, sarebbe stato impossibile, ecco la macchina facendo fatica salire, aspettando un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più. Allora ragazzi, allora vuoltre Alfredo allucinato Poi c'è il nuovo grado Grazie Ebbene sì, un grado Grazie Ok, allora il giro continua Siamo arrivati alle grotte del Caglieron Sono circa le 7,75-8 Speriamo che non ci sia nessuno Così godiamo dell'ambientazione migliore in assoluto Tutto a esposizione lunga Sarà un ground bella e lunga giornata Grazie 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 Andiamo a mangiare un boccone Ebbene ciao ragazzi allora ho appena accompagnato Davide al treno e niente la giornata è finita sono le 7 della sera giornata bella bella intensa abbiamo girato parecchio parecchie foto parecchi punti abbiamo girato da Venezia fino al Cansiglio Poi passare a Masiero, lago del Barchis siamo andati alle cascate del Cagliarò siamo passati per Pordenone ed ora sono tornato qui a Venezia Niente giornata bella intensa bellissima pensavamo appunto di andare in moto invece avevano previsto tempo schifosissimo cosa che invece non è stato fortunatamente per noi E quindi è stato un successone come giornata ci vediamo alla prossima ciao bocce Entra non me neanche riuscito cazzo